Allora, buongiorno, direi di cominciare per rompere il ghiaccio e per iniziare a dire alcune cose. Chiedo già da adesso, anche se stanno rifilati, ad Agostino Ritano, direttore di candidatura della Capitale 24, e a Silvano Straccini, direttore della Fondazione, di cui poi parleremo, che sarà il soggetto pubblico di interfaccia dello svolgimento di gran parte del programma di Unione. Potete anche sedervi sulle casse, reggono, però abbiamo deciso di non stare sopra anche per creare un po' più di vicinanza anche nello scambio e nelle domande e gli interventi che velocemente poi verranno fuori. Tanto grazie, grazie per questa partecipazione così numerosa, come ho detto in premessa, rispetto alla causa del ritardo a registrazione. Tanto ci aspettavamo una buona partecipazione, ma non così grande. E ne siamo contenti. E allo stesso tempo ci stiamo muovendo, comprensibilmente, a indirizzare i concentrici, nel senso che questo è un percorso nato esattamente due anni fa, quando nella sala del Consiglio Comunale lanciammo l'idea della candidatura, poi proseguita ovviamente con lo sviluppo del dossier, che è passato per diversi momenti che abbiamo chiamato, che si chiamano, esercizi di serenanza e che abbiamo tenuto dalla prima estate alla scuola Bramante-Genga, che hanno generato diversi momenti, alcune proposte che sono rientrate poi nei filoni di progetto e anche alcuni momenti partecipativi che hanno originato alla comunicazione, il logo, altri percorsi fondativi. Poi c'è stato il resto del lavoro, la vittoria, i festeggiamenti anche brevi, necessari e poi da lì abbiamo ripreso un dialogo ovviamente in parte di recepimento di alcune istanze che ci stavano arrivando e in parte ovviamente anche di coinvolgimento di gruppi di realtà e anche naturalmente mesi che sono stati necessari un po' a strutturarsi, compreso anche il dibrivoare nella fondazione che ancora si chiama Pescheria, questo è un piccolo vulnus da sistemare, perché è l'ampliamento della fondazione pubblica che già ora si occupa di sovrintendere il polo museale della città e abbiamo scelto di non creare un ulteriore soggetto, essendo comunque la fondazione al 100% comunale, con pagine societaria, e di utilizzare questo strumento come interfaccia comunque più agile per lo svolgimento del programma e anche per introduitare i finanziamenti pubblici e speriamo anche privati che riusciranno a implementare il progetto. Altra parentesi sugli inviti, quindi molti di voi sono stati invitati, molti di voi grazie sono presentati non offendendosi anche se non siamo arrivati a tutti, altri verranno coinvolti progressivamente nello sviluppo dei programmi, le associazioni di categoria, sindacati eccetera non sono presenti oggi, a meno che chi non è venuto spontaneamente perché c'era un momento successivo con i sindaci e le realtà delle associazioni eccetera, che però abbiamo deciso di rinviare, essendo comunque un appuntamento provinciale, per le questioni legate al maltempo, soprattutto per quello che riguardava gli amministratori, sono presenti però invece dalle categorie, chi segue progetti specifici sul turismo, sul cinema o su attività culturali, rientrando appunto nell'associazionismo vero e proprio. Abbiamo iniziato oggi, questa mattina, questa corsa dei 24 del mese, di cui poi dico brevemente, con i dipendenti comunali, perché sono molto spesso anche interfaccia delle vostre progettualità, però trasversalmente a ogni settore, dai servizi educativi, sociali, lavori pubblici, perché riteniamo che tutta la città e tutte le realtà dell'amministrazione saranno coinvolte nell'obiettivo della capitale. Abbiamo fatto poi un passaggio, anche questo non esaustivo, quindi ovviamente non siamo arrivati a tutti, però per impostare un lavoro sulla campagna dei volontari, perché sarà importante anche un forte meccanismo di partecipazione dei volontari, non, vado dietro a polemiche di altri capitali, perché ognuno ci è capitato, non sostitutive del lavoro professionale o del lavoro culturale che andrà fatto, anzi dobbiamo vivere questa capitale sia nel budget, ma anche nel moltiplicatore, anche come una grande occasione di lavoro, di lavoro culturale per quanti più professionisti possibili, ma attraverso una carta dei valori, un codice etico, simile un po' anche al percorso fatto da altri capitali, che andremo a definire qual è in realtà del volontariato e dell'associazionismo nelle prossime settimane, saranno un po' anche le regole di ingaggio di come far funzionare un meccanismo che non sarà tra l'altro solo pesarese, ma che dovrà valere per tutta la provincia di Peserubino, perché poi insomma dal volontariato che nasce dalla facilitazione dell'accoglienza, ma è anche l'essere un po' i primi ambasciatori di percorsi, di progetti, di accoglienza, di cittadinanza, ovviamente ci aspettiamo molto, in genere diciamo è uno anche dei termometri del successo o meno di un'operazione importante come quella delle capitali, partiamo da esperienze note e di successo, ovunque la di Matera, come quella di Proce, in cui peraltro Agostino è stato protagonista, ma consapevoli anche che sull'ambito dell'associazionismo e del volontariato il nostro territorio ha una ricchezza particolare e quindi potrà anche aiutare anche nell'evoluzione dell'idea della capitale anche a dare un valore aggiunto e magari affermare nuovi modelli che potranno essere utili anche per le esperienze successive, così come su ogni aspetto o quasi ogni aspetto siamo in contatto in rete anche con le altre capitali passate e future, future ovviamente parliamo di quelle europee, la prossima italiana darà assegnata tra qualche mese proprio perché crediamo che in ogni azione vada fatto un'azione diciamo di collegamento con le esperienze passate e anche di proiezione verso il futuro e che possa permettere anche attraverso questo di fare in modo che ad esempio Pesaro possa essere un palcoscenico per un effetto lungo ad esempio di Bergamo-Brescia o di Parma con cui siamo in contatto, essere noi avvantaggiati e questo è anche un invito a chi di voi, così introduco anche il tema della giornata di oggi che è prevalentemente cosa potete fare voi per la capitale italiana della cultura prima del passaggio inverso, tra questo c'è anche aiutarci ad amplificare a livello nazionale non solo una rete di rapporti che possa fare in modo non solo che Pesaro abbiano la propria centralità ma che i rapporti e le attività che si andranno a sviluppare con l'opportunità della capitale possano essere anche più radicati, più lunghi, più duraturi parlavamo prima con Federica Ferdinando ad esempio del ruolo delle fondazioni come sapete uno dei percorsi è quello di andare verso la costituzione di una fondazione di comunità, ad esempio realizzare un appuntamento con tutte le realtà delle fondazioni di comunità all'interno di Pesaro 24 in modo non solo per dare una centralità su un tema importante a Pesaro in quei giorni ma per creare relazioni che possano poi durare a lungo questo se ognuno di voi pensa ai propri ambiti può essere un moltiplicatore fenomenale di rapporti e di attività e anche di budget da mettere all'esposizione perché chiaramente chiederemo e offriremo a necessitare alla realtà e alla relazione di compartecipare e noi comparteciperemo ai loro progetti quindi questo è un po' nell'impostazione di massima dicevo perché cosa potete fare voi e cosa possiamo fare perché chiaramente questi mesi sono stati mesi in cui abbiamo raccolto comunque anche da molti di voi istanze progettuali l'opportunità di far crescere magari un festival, un'iniziativa come uno stava facendo, una nuova idea l'approccio comprensibile che avviene sempre e avverrà sempre ora che siete capitale non possiamo non fare questo potete non occuparvi di anche sarà molto proporzionale anche al budget soprattutto privato che riusciremo a interventare ma prima abbiamo un compito da svolgere che è quello, che è il tema di oggi di realizzare il programma per cui siamo stati scelti dalla commissione il 16 marzo scorso che è un programma fatto di 45 linee di intervento progetti, quindi non eventi pochissimi eventi singoli poi è chiaro che l'anno, l'avvicinamento l'anno sarà costellato anche di concerti di manifestazioni eccetera però quelli che abbiamo inserito nel programma di cui poi parlerà in qualche modo per dare un inquadrato specifico Agostino sono linee di progetto tra virgolette, poi Agostino mi contraddirà in cerca d'autore nel senso che alcune saranno gestite direttamente anche dalla fondazione e dal comune della città ma in molti saremo in cerca ad esempio di capofila di soggetti e tutori, di partecipi di grafici, di attori, di compagnie per i progetti di residenza quindi è un percorso realmente aperto realmente partecipativo e oggi iniziamo un po' a svilupparlo e chiaramente passerà non sarà un click day ma passerà invece per bandi e per meccanismi che permettano a ognuno di voi da solo in forma associata di entrare a far parte delle linee di intervento progetti che ovviamente non riguarderanno solo la cella di pesaro ma più o meno, diciamo, una metà sono pensati per vivere nel territorio provinciale o perché raccolgo un'istanza che ci sono arrivate tematicamente rispetto a elementi che legano sempre tecnologia, patrimonio e sostenibilità che sono un po' gli elementi della base della progettazione o perché ci siamo già immaginati una griglia di intervento sul territorio provinciale che ovviamente dovremo mediare un po' anche con le istanze e con le aspettative dei comuni e delle unioni e aggregazioni dei comuni che fanno parte della provincia lo dico perché poi anche oggi sono presenti un FPCR rappresentanti da diversa parte della provincia abbiamo raccontato in generale una capitale in cui in 50 settimane ogni comune sarà capitale per una settimana capiremo con i sindaci se sarà una regola fissa o se invece ragioneremo per aree aggregate magari una comunità montana che racchiude o quattro comuni potrebbe occupare un mese nel racconto generale questo è un elemento anche fluido che cercheremo di sviluppare anche per dare incontro maggiormente a cosa già c'è ai periodi migliori oggi per esempio ho voluto essere a Fontavellana era la mia idea non era una grande idea perché magari non riuscivamo ad arrivarci per la neve quindi magari dobbiamo fare anche un ragionamento climatico e ambientale rispetto a come andare a calare i progetti nelle parti diverse dell'anno anche in termini di friabilità però comunque è un elemento che andrà ragionato e questo intercetterà non solo le amministrazioni ma anche le realtà culturali attive nei territori o soprattutto le reti altro elemento per cui è importante la vostra presenza oggi è che ognuno di voi magari può fare parte di progetti di rete reti di teatri reti di compagnie o compagnie rete tra loro o collettivi di artisti cioè tutto quello che ci aiuta anche a rete a coprire non ovviamente tutto il territorio ma parti significative ci possono aiutare a fare in modo che il programma sia sempre più e sempre meglio calato appunto in tutto in tutto il territorio nei tempi appunto iniziamo oggi gli appuntamenti di 24 del mese toccheranno tra Pesaro perché abbiamo tutta la provincia probabilmente il prossimo sarà sempre a Pesaro perché abbiamo alcuni elementi importanti ancora da svolgere tra cui anche la inaugurazione della rinnovata pescheria in questo caso sì la pescheria centro attivisive che dopo neanche un anno di interventi insomma ritornerà in forma completamente rinnovata climatizzata intanto anche per questo periodo si capisce anche meglio ma anche fortemente infrastrutturata dal punto di vista audio e video sia per le produzioni di mostre ma anche per utili di vari quindi sarà un po' il primo nuovo luogo che riconsegneremo alla città seguirà poi dopo qualche giorno la sala della Repubblica in modo che iniziamo anche creare un elenco di questi posti il 24 appunto del mese gireremo la provincia e sarà l'occasione per incontrare un anno prima fondamentalmente zona per zona le realtà che verranno coinvolte e anche per iniziare a condividere il programma due parole poi le lascio anche perché ho finito la voce con i ricerici ricarichi ma Silvano Straccini per quello che riguarda il tema della fondazione perché appunto la fondazione sarà un interlocutore fondamentale attuatore dei programmi sarà il soggetto che poi svilupparà anche i rapporti di produzione quelli gestiti direttamente dalla capitale poi ripeto in molti altri progetti alcune delle vostre realtà chiaramente quelle più strutturate quelle con più esperienza potranno essere chiamate anche a essere capofila quelli che quindi magari proletano le risorse possono moltiplicarle anche con contributi privati quindi sarà un percorso comunque molto asimmetrico sarà una regola aurea per ogni progettualità così come la compagnia teatrale ha diciamo caratteristiche diverse dal conservatorio qui rappresentato da Masini che sarà protagonista ma con il vantaggio di essere un conservatorio magari senza l'agilità che poi avviene una situazione culturale quindi dovremo capire anche il parco dei giocatori insomma come farlo corrispondere meglio agli obiettivi probabilmente ho dimenticato molte cose che magari arriveranno fuori anche in base alle vostre domande però dare la parola a Silvano che ci racconta un po' come si sta muovendo la fondazione in questi primi giorni di questa nuova attività e poi passiamo ad Alcostino per entrare un po' più nel vivo del percorso che si andrà a strutturare grazie Daniele innanzitutto ci fa piacere vedere una platea così nutrita rispetto alle convocazioni che avevamo fatto la struttura della fondazione lavora anche come segreteria organizzativa quindi sarà la fondazione a ricepire anche le comunicazioni di varie natura che passeranno attraverso il tema della Pesaro 2024 è un impegno notevole e oggi comunque è una giornata di lavoro per noi perché volevamo uscire dal momento del riconoscimento dalla proclamazione avete sentito per varie appuntamenti qual è stato il racconto della candidatura qual è stato tutto il percorso anche degli esercizi di cittadinanza iniziamo noi in verità abbiamo già iniziato qualche mese fa a strutturarci per essere pronti all'attuazione di quel dossier e naturalmente recepisce tutta una serie di elementi che erano stati il frutto di un lavoro sulla città ma anche la conclusione di un percorso molto più lungo che la città ha fatto in questi anni quindi il tema della candidatura segnava già un traguardo il tema del riconoscimento un ulteriore traguardo adesso è il momento di iniziare a progettare quello che era stato in qualche maniera scritto e riportato all'interno del dossier i punti salienti sono diciamo alcuni che provo a riassumere poi entreremo con Agostino invece sui dettagli delle attività che ci aspettano in questi mesi il primo elemento è il tempo il 2024 è per estensione del tempo è composto di 36 mesi perché è un 23 un 24 meno 1 e un 24 più 1 questo perché nell'idea di questa candidatura e di questo riconoscimento il lavoro che in parte aveva già iniziato la fondazione sulla propria identità di gestione della cultura aveva già recepito alcuni elementi questo grazie anche a una a un lavoro fatto dentro della fondazione prima della proprio prima della candidatura cioè riconoscere una nuova governance questo dopo i due anni di pandemia ci aveva costretti a rivedere il funzionamento degli istituti culturali della fondazione del ruolo della fondazione all'interno di questi processi di rinnovamento ci siamo affiancati a una società specializzata che ci ha aiutato a definire alcuni aspetti che si chiama Fitzcarraldo che molti di voi la conosceranno abbiamo stilato il nuovo statuto della nuova fondazione tutti i processi classici delle fondazioni pubbliche siamo arrivati fortunatamente in un momento topico perché questo processo già iniziato ha coinciso e coincide con l'attività della nuova fondazione dal primo di gennaio la fondazione pescheria che si chiama pescheria ma naturalmente ha funzioni più dilatate gestisce tutta la rete museale della città quindi non solo il centro arti visive che era già destinatario questo lo dico per raccontare perché poi spesso non capita mai di avere un pubblico così profilato dal punto di vista culturale si era giudicato un finanziamento del ministero quindi abbiamo approfittato per riqualificare il centro arti visive pescheria quindi rinnovato anche nell'estetica ma anche nella sostanza amministrativa con una visione estremamente diversa rispetto a quella del passato e ora diciamo è in prima fila nell'attività di attuazione di questo di questo programma cioè dire cosa c'è dentro Pesaro 2024 tre anni di lavoro questo sicuramente quindi noi abbiamo iniziato dal 2022 ci sarà tutto il 2023 tutto il 2024 ma gli effetti di questo lavoro saranno depositati dentro la fondazione o le governance che la politica si vorrà dotare di un'attività che è insita proprio nella candidatura con Agostino ci eravamo già incontrati durante le fasi specifiche di candidatura però abbiamo condiviso questo famoso processo di co-creazione che era già previsto nei nostri progetti cioè nella nostra idea di governance condivisa con dei processi di verifica della politica culturale di una città abbiamo immaginato degli organi all'interno della fondazione che fossero permanenti quindi quello che ci aspetta è una serie di attività focalizzate sicuramente in questo anno e mezzo per una parte legata alla scadenza del 2024 ma successivamente dovremmo misurare e valutarci con un approccio culturale molto più partecipato e strutturale all'interno della fondazione questo ci tenevo a rappresentarlo perché credo che sia anche un valore che la città al di là dell'esito della della candidatura si era già posta per il futuro quindi oggi questa cosa è tutto più semplice rispetto a una identità una visione che coincide perfettamente ma dobbiamo a questo punto diciamo accelerare e trovare la modalità con cui attuare questi processi che sono più temporali per alcuni aspetti e altri più strutturali per momenti diversi della storia culturale della città quali sono le tappe fondamentali ci siamo dati alcuni alcuni limiti temporali entro i primi giorni del mese di luglio o comunque entro il mese di luglio la presentazione del quasi tutto il programma che andremo a realizzare nel 2024 questo vuol dire che abbiamo intenzione di fare una presentazione non ancora naturalmente non svelando tutto quello che sarà il contenuto della capitale ma quello che potremo condividere sicuramente prima di tutto con voi perché voi sarete parte naturalmente attuativa di molti dei processi che poi Agostino racconterà quindi mese di luglio la presentazione del programma 2024 dicembre o fino a novembre la conferenza stampa nazionale quindi per quella data dovremmo essere già pronti per attuare tutti i nostri progetti per il 2024 poi fra un anno poco più poco meno sicuramente la cerimonia inaugurale e poi l'anno successivo quella nel 2025 di chiusura dell'attività del quindi 2025 delle attività della capitale poi naturalmente inizia il lavoro quello più quotidiano ma che naturalmente come ho detto anticipa questo anzi da continuità e valore quello che abbiamo appena detto e ci aspettano quindi sei mesi poco meno di sei mesi perché siamo già a febbraio per attivare questi questi processi che in parte sono già nella città come attività di proposta produzione culturale eventi mostre quello che normalmente la città produce nel suo calendario di eventi parliamo anche di spettacolo naturalmente la capitale sarà un diciamo bouquet di attività che per quell'anno avranno una tematismo una caratterizzazione votata agli argomenti che sono stati enucleati all'interno del dossier io credo che non dovremmo ridire tutto però in maniera sintetica forse ripassare alcuni elementi cardini di questa candidatura che ripeto non è una Agostino ha preso la mia modalità di rappresentare il capitale italiano della cultura non è un concorso non è Miss Italia non è la città più bella della cultura in quel momento ma è quello che in qualche maniera ha saputo rappresentare una progettualità molto molto più evoluta e vi posso garantire dopo qualche anno che lavoro in questo ambito leggere il dossier di Agostino nella sua versione finale è stata effettivamente la ragione che si riconosce in maniera netta del successo di Petro perché ha saputo anche estrarre da tutti i contenuti che sono stati forniti nei pochissimi mesi della candidatura un'anima a quella che in qualche maniera in parte era già presente ma proiettandola in una prospettiva molto più articolata lunga e in termini che l'aggettivo è molto raffinata della cultura quindi Pesaro si è posta effettivamente davanti a un obiettivo che è altissimo quindi quello che dice anche Daniele credo che lo sforzo per raggiungere quel tipo di risultato non è così scontato per nessuno questo è all'interno delle cose è all'interno delle attività che ciascuno in qualche maniera di voi porta avanti quotidianamente ma credo che insieme sarà necessario fare un salto in avanti è stata dura vincere la competizione nel momento della candidatura adesso probabilmente anche per un senso di orgoglio Pesaro non è una città qualsiasi questo ce lo possiamo dire ha necessità di fare dal punto di vista del culturale un salto in avanti molto molto articolato per alcuni passaggi oggi iniziamo probabilmente a annusarci e a capire tra di noi quello che sarà il percorso quindi andremo a nucleare dei modelli operativi o comunque in qualche maniera delle prospettive delle traiettorie che noi abbiamo naturalmente immaginato con le nostre esperienze con le esperienze di Agostino servirà dare un esito nei prossimi quattro mesi a questo lavoro credo che sia una sfida importante lo dico da operatore culturale che con qualche anno di esperienza posso dire che credo che sia vincente e uno dei motivi questo una parentesi personale al di là della sfida quello che mi ha convinto a accettare questo incarico è stato proprio che l'asticella è molto alta quindi un po' è stato anche questo che mi ha spinto e credo che ci siano ma vedo molte molta partecipazione credo che ci siano le risorse per poter ottenere questo risultato buon lavoro a noi quindi grazie buon pomeriggio buon pomeriggio a tutti ben trovati la giornata è una giornata di lavoro come diceva come diceva Silvano è forse diciamo in questo momento la giornata che più di tutte riattiva quel meccanismo virtuoso e anche quel meccanismo che ha consentito poi al progetto di Pesaro di essere il progetto che più di tutti gli altri è riuscito secondo la commissione ad interpretare le sfide del presente per poter interpretare il futuro quindi io partirei con la visione se fosse possibile dalla regia del video che noi abbiamo utilizzato tra diversi strumenti che abbiamo utilizzato quando abbiamo tenuto l'incontro con l'audizione l'incontro con la commissione in quella sede noi abbiamo fatto delle scelte anche di rappresentazione molto spinte siamo la città che è in sede di commissione non so se alcuni di voi hanno avuto modo di assistere diciamo a quella giornata nel caso vi invito comunque a vedere il video della nostra audizione cioè dell'audizione della città di Pesaro perché abbiamo dato parola prima diciamo di dare la parola ai vari attori quindi al sindaco ai diversi esperti abbiamo dato la parola ad una pianta cioè noi abbiamo pensato che il primo elemento che per noi doveva rappresentare il nostro lavoro era la voce intima nascosta afona ormai di un mondo che è il mondo della natura che più di noi più della nostra specie più della nostra dimensione antropocenica oggi forse può testimoniare quanto abbiamo tanto da apprendere proprio da questo mondo che abbiamo un po' considerato subalterno al nostro e quindi demmo la parola ad una pianta la pianta era una pianta di ginkgo era la pianta del ginkgo biloba e da lì su questa narrazione del ginkgo biloba erano i giorni terribili della guerra dell'inizio della guerra in Ucraina quindi il terrore che si viveva appunto con l'arrivo della guerra ai confini dell'Europa pensammo che quella voce cioè la voce del ginkgo biloba doveva introdurre il nostro discorso sulla cultura quindi partirei dal video un po' Grazie a tutti. 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 vorrei capire come la Grazie a tutti. 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 Buongiorno. Grazie a tutti. 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 post post. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. Grazie a 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 tutti. e a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. un professionista. Grazie a tutti. Grazie a tutti. tutti. e tutti. e a tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti. e tutti. e a 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 tutti. e tutti. e a tutti.